Attilio Urciuolo e-commerce e web design in provincia di Arezzo e quindi questa scuola organizzerà l'evento l'anno prossimo sono stati assegnati i premi nelle categorie bianche, rossi, rosati, gli spumanti un premio è dato anche all'Emilia Romagna noi siamo molto contenti perché è una regione che sa fare dei suoi prodotti un grandissimo marketing Presidente, possiamo dire che in questi tre giorni di Bacco e Minerva qui ad Avellino c'è stata l'occasione per far conoscere il nostro territorio anche attraverso queste manifestazioni c'è la valorizzazione del territorio Noi stiamo cercando di valorizzarlo, ho avuto grandi apprezzamenti da tutte le scuole del nord hanno detto che effettivamente il nostro territorio è bellissimo abbiamo fatto visitare l'abbazia di Loreto, i scavi di Pompei dove abbiamo visto delle antiche ville restaurate nonché i vigneti di Mastro Berardino lì a Pompei quindi abbiamo avuto un grande successo se ne tornano nel Veneto, nel Piemonte, nella Lombardia, nella Toscana contentissimi di aver conosciuto un territorio così bello